È ricoverato in condizioni gravissime il pedone di 48 anni, travolto martedì 30 gennaio, poco dopo le 18 a Vicenza, lungo la strada regionale Padana Superiore, poco lontano dal centro commerciale Palladio. L'incidente è avvenuto all'altezza della rotatoria che porta nella frazione di 7K. Il pedone, investito da un'auto, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al San Bortolo, su posto per i rilievi la polizia locale di Vicenza che dovrà stabilire la responsabilità dell'accaduto.